Una lunga mattinata in corte d'assise a Chieti nel processo per il presunto omicidio di Alina Kozak, la quarantena rumena deceduta sul suo letto il 22 gennaio scorso a Spoltore, segnata dai racconti di diversi testi della procura rappresentata dal procuratore aggiunto di Pescara, Anna Rita Mantini, ma anche di qualche punto a favore della difesa. Dopo la testimonianza di un consulente tecnico sui messaggi cancellati e poi recuperati sul telefono della vittima, è la volta di Cinzia Bosco, migliore amica di Alina, che ha confermato la sua volontà di lasciare il compagno e trasferirsi da lei a Teramo. Momenti drammatici in cui la Bosco si commuove nel ricordare come ha saputo della morte della sua amica. Ha riferito anche un particolare su una lunga telefonata ricevuta dalla sorella dell'imputato come se volesse convincerla a tutti i costi che Alina fosse morta per cause naturali. La Bosco ha parlato anche dei problemi nella coppia, di presunte violenze psicologiche e di campanelli d'allarme sul rapporto tra i due sempre più deteriorato. Particolari confermati anche da un altro test Carlo Bellante, amico della coppia e della ex moglie di De Martinis, Valentina De Santis, in particolare sulle violenze psicologiche da lei subite prima della separazione e di una serie di presunti vaneggiamenti dell'imputato dopo la morte di Alina riguardo alla presenza di entità maligne alla base della tragedia. Ci sono vari campanelli d'allarme sul fatto che Alina chiedeva aiuto ed era comunque vittima di una violenza psicologica che è innegabile che è uscita fuori in più occasioni e lei ha esplicitamente chiesto aiuto in vari momenti e in varie sedi, sia istituzionali sia nel contesto sociale dove era inserita. Tra i testi d'accusa un po' a sorpresa la deposizione di Gisella Joelle Pascale, amica dei due e loro consuelo psicologica, secondo la quale i problemi tra i due erano solo legati a questioni economiche e che per questo aveva consigliato loro di vivere separati per un periodo per riconquistare una propria indipendenza, ma in sostanza anche detto che i due si volevano molto bene. Un punto inaspettato dunque a favore della difesa che ha anche evitato in chiusura di udienza di incalzare gli operatori del 118 chiamati a deporre e sulla cui attività si è soffermata la consulenza di parte, come spiega lo stesso legale di De Martinis, Michele Vaira. Non aveva senso, se non ha beneficio di voi della stampa, con tutto il rispetto, però processualmente ciò che doveva entrare è entrato. Sì, però le vostre consulenze dicono altro. Questo è un altro discorso. Quello che è importante, infatti l'attentissimo presidente ha fatto una domanda che era l'unica che forse avrei potuto fare io, che ha specificato un dettaglio che era emerso nella precedente testimonianza del dottor Polidori che metteva in dubbio che fosse stata eseguita l'intubazione orotracheale che è quella che può provocare determinato tipo di lesioni. Oggi i medici hanno confermato che ciò che c'era scritto in un verbale, che è un atto pubblico di intervento del 118, corrisponde alla verità. Prossima udienza il 28 gennaio con gli ultimi testi della pubblica accusa, mentre la difesa ha annunciato di voler rinunciare a tutti i testi in lista, tranne la sorella di De Martinis, Monica e i consulenti di parte.